Oggi qua. L'intervento di Raffaele Pele si spoggia anche su quanto riferito dal collaggio delle elezioni in una propria relazione, che è il motivo per cui noi siamo qui in Consiglio Comunale a votare i detti di politica. E faccio l'esperimento alla parte della relazione nella quale si parla delle sentenze sensibili, ossia sono le sentenze sensibili quelle che a seguito delle quali l'ente locale viene condannato a pagamento di una somma di denaro e quelle da considerare citati, sia se passate in giudicato, sia con l'ora immediatamente in seguito. La sentenza di condanna passata in giudicato è di per sé condizione necessaria e sufficiente per la legittimazione e per la riconoscibilità del debito da parte dell'ente locale. E ciò vale, pertanto, delle indicazioni e esercizi di competenza nel quale viene interessata l'intenzione della relativa partita e contante. Alla sentenza passata in giudicato il conteggio di decisioni assinina anche le contente provvisualmente esercite e rispende lo stesso ragionamento anche ai decreti giudici. I risori aggiungono però che alla sentenza probabilmente intesa, queste le pratiche che sono giudici, è piena dire che il riconoscimento della legittimità del debito con il bilancio debilante da decreto ingiuntivo o se stessa eseguitiva non costituisce a crescenza e per tanto non esprude l'amministratività impugnative o le possibili e forti. Nel principio contabile, il servizio della legge società, il servizio di apporzato, portato all'osservatorio di finanza e contabilità, ha precisato che nel caso di debiti derivanti da sentenza eseguitiva, il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere pura legittimità del debito che è già esisto perché è stata un'attività sparata dagli organi giudicanti, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di differenza finanziaria che è immaginato all'esterno di E il concetto, insieme a quanto è espresso dall'afferente, il nome per conto di tutti i quanti consiglieri della maggioranza, è stato messo agli atti del segretario e agli atti della legittimità del Consiglio Comunale. Voglio adesso affermarvi su altre considerazioni fatte dal Consiglio delle Vizioni e che mi costa chiedere al segretario o alla politica o a ragionare noi stessi sulla necessità di fare degli approfondimenti su determinate temaniche esposte all'attenzione del Consiglio delle Vizioni. Io non so se i colori che dovranno effettuare questo tipo di controllo che deve essere formato da un organo tecnico o se questo organo possa essere anche un organo di transito, un organo politico. Però mi preoccupano alcune cose che dico nelle Vizioni su questa legittimità. In particolare, quando parlo della proposta numero 158 e 473.13 per convestiti euro 90.100 contenente le seguenti tendenze. Mi voglio dire una parola. Passa la prima parte del mio intervento. Esprime ampiamente il valere favorevole. Con le considerazioni fatte dal progetto del Consiglio delle Vizioni rappresentate dalla Fai del Stato in modo per tutti quanti, però soffermiamoci su questi aspetti e cerchiamo di capire come è prevale nell'immediato futuro, perché penso che siano alcune cose particolarmente strane. La proposta. Anca rena Ciro. Sentenza notificata in data 900-2009. Proposta Euro mila e crescente eccetera eccetera. Ah no, allora. Proposta numero 194 del 189.2013. Settola Gaetano, esecuzione 704-461-012, atto di facetto notificato in 08-05-2013 e signoramento notificato in 05-07-2013. La presente proposta, come contenuto nella relazione istruttoria, risulta finanziata per 174.200, in posto diverso da quello certificato dall'Avvocatura nella persona dell'Avvocato di Aradone, lo fa 134.000. Il contenuto di questa proposta fa solo riferimento a un'ulteriore altra proposta, che è la 158.000. Sì, sono partito dalla 194 per arrivare a 150. L'organo di dedizione, come già rappresentato, non può non evidenziare che tratta, nella maggior parte dei casi, di atti che si trascinano da diversi anni, ma comunque di eventi inconducibili tra probabili tempi di politica. A tanto posto, osserva che il risultato e l'inerzia della legittimità del riconoscimento vanno eliminati, in quanto, oltre a poter essere attribibili a trascuratezza, possono generare colpa grave e anche responsabilità. In quanto la stessa espressione paurevole è finalizzata nell'Italia ulteriori gradi per il terzo. Noi, come consiglieri comunali, il nostro lavoro, il consiglio comunale, lo siamo facenti. Come consiglieri comunali, siamo stati chiamati a votare dei debiti fuori finanziari, anche in che esistono, nella vostra bilancia, individuare le vostre contabili che consentono di effettuare il Parlamento dei Presidenti. Come consiglieri comunali, abbiamo fatto uno sforzo enorme per cercare di entrare su ogni singola proposta a portato l'ordine del giorno del Consiglio comunale. Però, come consiglieri comunali, rispetto a quanto detto dal Consiglio dei Sordi, chiediamo che si faccia una verifica sull'attività di quanto da voi ho detto. Perché, se fosse vero, allora vuol dire che bisogna poter essere delle azioni vostre, anche da un punto di vista della riorganizzazione di alcuni settori della macchina comunale, al fine di far sì che queste cose, queste anomalie, queste esigenze, non si rivedano più nel prossimo punto. Se quando che a un momento del episodio dei Sordi dei Conti non dovessi essere accendibili, se si ha preso un caso, allora bisognerà chiedere alla prefettura di un arco di rimuovere il episodio dei Sordi dei Conti per la gratità del procedente, che di conseguenza per l'incompatibilità dovuta alla relazione che conosce questa distresa. Ma delle due lumi, da cui scopo non si può scappare, chiede ovviamente che nella transizione degli atti alla morte dei Conti si ponga particolare attenzione, e questa attenzione le chiedono i pacchetti dei consiglieri alla ragionanza, tutti, fatto che non mi serviscono nelle persone di impegno, i pedoni, il comune, il comune, il comune, tutti i consiglieri alla ragionanza, e i punti a noi vengono posti particolarmente all'attenzione della corte dei Conti perché siamo stupiti di essere persone di impegno e di chiamare all'esercizio del nostro conto. Grazie.